Alfredo, e guardami in faccia quando ti parlo. Io non so se riesco a finirlo. E quando mai sei riuscito a finire qualcosa? Ma non è colpa mia se... E di chi? Questo mestiere, se proprio vogliamo chiamarlo così. Sei tu che l'hai scelto. E oltretutto non lo sai neanche fare. Tu non sei capace. Chi ti compra? A chi piace? Dimmi a chi piaci, su dimmelo. A Agnese. Agnese! Agnese la pago io. Pago tutto io qui. Ma non ti vergogno. Io mi alzo le sei tutte le mattine. Per cosa? Per mattine rompirli in pigiama che passa le sue giornate a inventare storielle. Non rispondi neanche. Sei inutile, Alfredo. Sei un fallito. No. Non rispondi neanche. E quando. Non rispondi.